accantonata la valanga di emozioni che la tappa di bagno di romagna ha lasciato in dote il giro d'italia è ripartito da forlì per sbarcare alla volta di reggio emilia una tappa di passaggio per una corsa che nel weekend diventerà molto selettiva ed è lì che si potrà finalmente capire se la maglia rosa dell'olandese tom dumoulin ha radici così solide o se invece i cacciatori che stazionano alle sue spalle potranno inserirsi nella lotta per la leadership a cominciare dal predatore per eccellenza lo squallo siciliano vincenzo nibali che appare comunque abbastanza sicuro delle proprie possibilità di vittoria finale sono molto contento di questo grande pubblico però veramente l'organizzazione fa sempre grandi cose anche oggi la gente molto riconoscente arrivando qui alla presenza di questa di questa tappa quindi per me è una tappa abbastanza tranquilla poi vediamo lungo le altre tappe con me come stanno gli avversari non è semplice come detto è un giro molto difficile vedremo giorno dopo giorno